Il dolore è un trauma, però è anche importante quello che succede intorno, cioè quello che ti arriva per davvero, oltre che dalla tua famiglia che è stata con me, però da fuori, una forza incredibile, una forza incredibile, non saprei neanche descriverla, è tanta. Avevi paura? La paura purtroppo non va via, quindi quella ce l'ho ancora adesso, per un banale concetto, che una volta che ti succede una cosa hai paura che possa riaccadere, così come è arrivata dal nulla, è come un incidente in auto, fortunatamente ne ho avuti pochi, però vivi una cosa che magari fino a quel giorno l'hai vista solo su un giornale o l'hai sentita raccontare. Quando tu rischi e vedi veramente quel buio, dove non sai neanche cosa potrà succedere domani, quella non va via, anche se stai meglio non può scomparire. La paura c'è ogni secondo. Quindi mi vivo ovviamente tutta questa cosa bella della guarigione di questa nuova luce, con quella piccola parte di mente che dice ok, speriamo bene.